Buonasera amici, benvenuti nel mio 105esimo giorno di dieta. Come sapete ho ripreso il pieno alimentare che mi ha permesso di perdere 30 kg in un anno. Questa mattina colazione con la mia bellissima e buonissima torta che ho preparato il giorno prima, cioè la sera prima. L'ho sbagliato un pezzettino la sera proprio perché la mattina, cioè questa mattina, ne volevo un bel pezzettone solo per me. Anche se alzando il tovagliolo ho visto che già qualcuno, ahum ahum, se l'era già fregata un pezzo. Comunque questo è stato il mio bel pezzettone di torta della mattina. Latte e caffè, ovviamente freddo, l'ho voluto freddo. E questa è stata la mia colazione e non ho filmato il pranzo o lo spuntino perché non ho pranzato. C'avevo caldo, ho fatto troppo caldo, però in compenso ho mangiato un pezzettino di torta che era rimasto. Non so che ora era, tipo le tre, le tre e mezza, perché mi sono messa anche a fare gli armadi mio e dei bambini mettendo a posto, non me ne ero proprio accorta. Ventilatura a pallo, ovviamente. La sera invece abbiamo mangiato le aletti di pollo perché è stata una cena per tutti a parte mio figlio piccolo. Le aletti di pollo e l'insalata, semplice, insalata con pomodori, cetrioli e qualche oliva nera, io le amo, le adoro. E ovviamente nell'insalata quasi sempre metto i semi misti che dà un plus all'insalata. Questa è stata la mia giornata.